Le straordinarie memorie di un parapsicologo. Quarta puntata. Fermo, Ascoli Piceno, marzo. Spesso la sera, quando sono soli, invece di guardare la televisione, il conto e la contessa Mancini Spinucci si concedono una seduta. Un tempo si servivano solo di medium a transe completa, ma un giorno, mentre si trovavano a Roma, in via del Corso, videro esposto in un negozio uno di quei tabelloni con le lettere dell'alfabeto, oramai molto comuni, e lo acquistarono. Non sapevamo, dice l'ingegnere, se il nostro accoppiamento magnetico indispensabile per una buona ricezione avrebbe funzionato o no, ma fin dal primo momento la minuscola tazza si mosse velocemente, formando le frasi. Il primo a farci visita fu naturalmente mio padre, ma lo seguirono a turno tutti i nostri amici, ed allora per me e per Pia questi colloqui con l'aldilà sono del tutto normali. Pia e Lorenzo Mancini Spinucci sono sposati da 42 anni, e si sono sintonizzati pian piano raggiungendo un gradevole accordo. Dalla loro unione purtroppo non sono nati i figli, e questo è l'unico cruccio del conte Lorenzo, che non sa, spiega con il solito humor, a chi lasciare questa baracca. Ma il suo rapporto confidenziale con i defunti e con la vanità delle cose l'ha sempre aiutato a ridimensionare il problema. Anche per me è stato di grande conforto, aggiunge la contessa Pia, e racconta come si è avvicinata al paranormale. Bisogna fare un salto indietro all'immediato dopo guerra, quando Pia Pallastrelli viveva a Piacenza con i fratelli e con i genitori. Suo padre, il conte Giovanni, era senatore e faceva continuamente la spola fra Roma e Piacenza Pia, che ha una cultura umanistica, adorava la capitale e approfittava di ogni occasione per accompagnare papà. Una volta fi invitata a un party nel palazzo della Marchesa La Latta, e c'erano tanti ospiti, fra cui anche il conte Lorenzo. Pia lo notò appena, e si stupì quando, di lì a pochi giorni, era imminente il Natale, ricevette questo biglietto. A casa della Marchesa La Latta, ho conosciuto una ragazza di nome Pia Pallastrelli, di Celleri. Se è lei, tanti auguri. Se non è lei, tanti auguri lo stesso. Continua la contessa. Presi una cartolina e senza sprecarmi, troppo risposi. Sì, sono io. Grazie altrettanto. Dopo una settimana arrivò al mio indirizzo una lunghissima lettera di cui riuscì a capire solo la firma. La sua, perché Lorenzo ha una calligrafia illegibile. Comunque la decifrai con grande fatica, e per alcuni mesi i nostri rapporti furono solo epistolari, finché, verso San Giuseppe, Lorenzo ha un'impennata improvvisa. Dice che vuole assolutamente incontrarmi. Che gli sembra giunto il momento. Io non sono d'accordo. Rispondo che mettere naso, occhi e bocca alla nostra amicizia può essere pericoloso. Che preferisco continuare così. Ma lui insiste, insiste con tanta grazia, che accetta un appuntamento a Roma. Era la primavera del 1947. Pia Pallastrelli giunse puntuale in piazza di Spagna e si sedette nella prima sala. Aveva un cappello rosso e ogni tanto si voltava a guardare fingendo indifferenza verso la porta, da cui entravano uomini piccoli e alti, giovani e vecchi, brutti e belli, e se fosse quello o quell'altro si chiedeva con apprezzione. Alla fine, irritata, decise di andarsene. Ma proprio in quel momento, da un corridoio del celebre caffè, sbuccò il conte e andò a sedersi a un tavolino vicino al suo. Mi era passato davanti senza un sorriso, o un saluto, dice la contessa, e forse saremo ancora lì, con la testa per aria, se a un certo punto non mi fosse venuto un sospetto. Se fosse lui, venendo meno alle regole dell'etichetta, mi girai di scatto e gli chiesi, scusi, lei si chiama per caso, eccetera, eccetera. Sì, rispose tranquillo, con un cenno del capo, e si trasferì al mio tavolo. Ancora adesso, dopo quarantatré anni, sa cosa sostiene? Che non mi aveva riconosciuta. L'ingegnere Lorenzo protesta. Per forza, esclama, avevi cambiato cappello, e Pia che cosa credevi? Che ne avessi uno solo? Come andarono davvero le cose non lo sapremo mai. Di sicuro c'è che nel settembre di quello stesso, 1947, Pia e Lorenzo si sposarono a Roma, e Pia Pallastrelli iniziò la sua vita coniugale, nella secolare di Mora sulla collina, dove hanno abitato prima di lei tutte le contesse Mancini, a cominciare dal Quattrocento. Non ero più tanto giovane, riprende a raccontare il conte Lorenzo, e molti mi chiedevano perché avessi tardato tanto a sistemarmi, ma quando avrei potuto pensare a crearmi una famiglia? Tra il 1940 e il 45 avevo combattuto su tutti i fronti, preso parte a tutte le compagnie della Seconda Guerra Mondiale, compresa quella russa da cui sono tornato in pochi, e mi ritenevo fortunato perché non l'assistenza dei miei protettori era riuscito a portare a casa la pelle, insieme a una medaglia al valore. Per cinque anni non avevo più avuto nella possibilità, nella voglia di fare una seduta, ma anche nei pericoli più gravi, nelle ore più terribili, avevo sempre avvertito la presenza dei miei benefattori invisibili dell'altra sponda. Però di tutto questo non avevo mai parlato con Pia, sapevo che era lontanissima da queste cose, temevo di turbarla, non solo di sembrare un po' pazzo, era in gioco il mio matrimonio. La contessa sorride, poi dice, sono una donna concreta, con i piedi ben piantati per terra, ma sono anche aperta a qualunque possibilità, non mi meraviglio di niente, perché dovrei farlo, che cosa sappiamo dell'universo? Fino al 1492 ignoravamo perfino che esistesse l'America, ci ha pensato il marito di una mia antenata a scoprirla per caso. Questo parente è acquisito di mia moglie, prosegue l'ingegnere, era Cristoforo Colombo, sì proprio lui, lo scopritore del continente nuovo. Un avo di Pia, il conte Bartolomeo Pallastrelli, che le cronache del tempo ricordano come Perestello. Intorno alla metà del XV secolo lasciò Piacenza per recarsi in Portogallo, alla corte di Giovanni I. Come molti dei suoi contemporanei, era affascinato dalle carte nautiche che promettevano nuove strade sul mare e quando incontrò Cristoforo Colombo divennero subito amici. Il conte Bartolomeo aveva una bella figlia, Felipa, in età da marito, e non appena la conobbe Cristoforo Colombo cominciò a corteggiarla. Allora le differenze sociali erano un ostacolo insormontabile per due innamorati, ma Bartolomeo Pallastrelli doveva avere un fiuto particolare e non ostocolò il matrimonio di Felipa con quel marinaio genovese, ricco soltanto di ambizioni e di sogni. L'unione da cui nacque un figlio, Diego, durò poco per la morte immatura della giovane sposa, ma intanto Cristoforo Colombo, uno degli uomini più benemeriti dell'umanità, era entrato a far parte della famiglia. Con questi illustri ascendenti e con una natura libera da pregiudizi, Pia Pallastrelli ronebbe il minimo trauma quando pochi mesi dopo le nozze ebbe il suo primo contatto con il paranormale. Aveva invitato a pranzo un'amica di sua cognata, la signora Chiolo di Roma, ed era seduta con lei e con il conte nel salotto del caminetto quando si accorse che la sua ospite aveva reclinato la testa. — Lorenzo, hai visto? Sta male, disse suo marito, ma l'ingegnere si mise un dito sulle labbra per zittirla e la sollecitò a bassa voce di andare a prendere carta e matita. La signora Chiolo era caduta in transe contro la sua volontà, come spesso succede. Incominciò a parlare con voce maschile mentre il conte Lorenzo prendeva appunti. Era il mio suocero, ricorda ora Pia Pallastrelli, e mi mostra il messaggio che ha sempre conservato e che vale la pena di leggere insieme. Eccolo. — Lorenzo, sono lieto di dare il benvenuto nella nostra casa alla tua compagna, che essa possa portare gioia alla tua vita e il lustro alla nostra casa. Grazie. Ora veramente non sei più solo. Che il Signore ti accompagni e con te tua moglie. Tieni alto il nostro nome. Ti ammonisco e non lasciare queste terre che hanno bisogno di te come tu di esse. Poi, rivolgendosi direttamente a sua nuora, Pia, tu porti un nome solenne. Ti sia di auspicio, e come per il passato, così per il futuro sarà Pia la tua vita. Sento amore e armonia fra queste vecchie mura. Ti ho sentito titubare. Lorenzo, e hai ancora un certo tormento, ma ricordati sempre che questa terra ha visto i nostri Natali, e così dovrà essere ancora per la nostra famiglia. La pace, la benedizione sia con voi, in ogni luogo e in ogni circostanza. Io vi sarò vicino. Tu, Pia, hai temuto per un istante, ma non ne avevi ragione. Con lei che mio figlio ha condotto in questa casa è sempre la benvenuta. La benedizione sia con voi. Alcune settimane più tardi, Pia fece un sogno curioso. Vedeva un uomo vestito di nero con i capelli tagliati alla paggio, che stringeva fra le mani un pacco voluminoso di cui le indicava il contenuto, numerosi pezzetti quadrati simili a dadi o a caramelle. Chi sei? domandò la contessa. E lui, Giovanni il dannato. Incuriosita da queste parole, la contessa aprì gli occhi e svegliò bruscamente il marito, che adesso racconta. Per tranquillizzarla, e anche per riprendere il sonno interrotto, le promisi che alla prima occasione avrei interpellato mio padre, e tre sere dopo, durante una seduta, chiese al papà se Giovanni il dannato era realmente esistito. Rispose che alla fine del tredicesimo secolo le famiglie più potenti di fermo avevano il diritto di coniare moneta, e che in quell'epoca Giovanni il dannato era un operaio al servizio della nostra famiglia, per la quale tagliava e punzonava le verghe d'oro. Non so altro, ammise mio padre, ma Giovanni è qui. Parlate con lui, ebbe inizio così una fitta conversazione con il dannato, che ci prese gusto e venne spesso a trovarci. Dal principio ci raccontava solo grossolane bugie, ma un po' per volta, con la sua calma indulgente... Pia riuscì a fargli confessare la verità. Per un po' di tempo aveva lavorato con scrupolo onestamente, ma a un certo punto non aveva saputo resistere alla tentazione di arricchirsi illecitamente e aver rubato una certa quantità di lingotti senza che se ne accorgesse nessuno. Poi li aveva nascosti in cantina, pensando che prima o poi sarebbe andato a riprenderli, ma la morte se lo portò via in giovane età, e il tesoro rimase dove era, dove si trova tuttora. Anche Pasqualina l'ha visto. Ma quando era vivo Giovanni, qui c'era solo una torre, che si andò ampliando nei secoli fino ad assumere le dimensioni attuali, e scoprire quel nascondiglio nel labirinto dei sotterranei ora sarebbe impossibile. Perciò io e Pia tentammo in tutti i modi di convincere Giovanni il dannato a rivelarci il punto preciso. In vano. Quando rinascerò, rispondeva, andrò a cercarlo, e nella prossima incarnazione potrò godermi il lusso di una vita da gran signore. Per un'intera stagione Giovanni il dannato si dileguò, e i conti Mancini erano ormai persuasi che non sarebbe tornato. Invece una sera si presentò con aria contrita, e disse che nel frattempo aveva saputo una cosa. Pare spiegò che quando si scende di nuovo laggiù fra voi si dimentica tutto, non ricorderò più dove ho messo il tesoro. Sono molto avvilito. Pia e Lorenzo Mancini ne approfittarono subito per dirgli, visto che i lingotti d'orio ormai non ti servono, perché non ce li regali, Giovanni? Ti diamo la nostra parola d'onore che li venderemo e distribuiremo il denaro e beneficenza. Giovanni il dannato sembrava riflettere, ma poi rispondeva no, non posso. Se compio una buona azione salgo, è una dimensione diversa, e i miei compagni non vogliono. I miei compagni desiderano che resti con loro. La contessa Pia è un'assidua giocatrice di bridge, svago che, come tutti sanno, richiede una mente lucida e razionale, un'attenzione continua, eppure i fenomeni paranormali a cui assiste da quarant'anni non l'hanno mai sconcertata. Sa che la scienza li sta controllando, e che nel futuro riuscirà a svelare i segreti in cui siamo immersi, e che sfioriamo senza vederli. Ma sa anche che questo traguardo è molto lontano, che sarà raggiunto probabilmente solo nel terzo millennio. Io non ci sarò, dice con un sospiro, e per il momento il mio compito, credo, è uno solo, quello di riferire con la massima sincerità, senza alterarli e senza romanzarli, i fatti inesplicabili che mi sono accaduti. Proprio per uno di questi fatti spiegabili, un altro dei suoi antenati, il conte Gottardo Pallastrelli, rinunciò a tutti i suoi beni per dedicarsi alla vita spirituale. È il 1322, a Piacenza il numero dei malati di peste cresce di giorno in giorno, e per difendersi dal contagio la famiglia Pallastrelli si trasferisce a Sarnavno, in un castello di sua proprietà. Qui si riuniscono a banchettare allegre brigate di cacciatori amici del conte Gottardo, ma tutte le sere uno degli invitati, sempre lo stesso, si lamenta perché davanti al suo piatto, a differenza degli altri invitati, manca la pagnotta di pane fresco. Il conte Gottardo interroga le servitù, ma nessuno risulta colpevole. Allora si nasconde dietro una tenda, quando la stanza è vuota e attende. A un certo momento sente un fruscio sommesso e vede entrare di corso un piccolo cane bastardo, bianco e marrone. Si avvicina alla tavola, apparecchiata, si arrampica sulla sedia in fretta, guardandosi intorno, afferra una pagnotta coi denti. Poi se ne va, sempre di corsa. La scena si ripete nei giorni seguenti e Gottardo vuole saperne di più. Senza fare rumore segue il cagnolino a una certa distanza, attraversa con lui prati fioriti e ruscelli, entra in un bosco e qui, sdraiato sotto una quercia accanto a una sorgente, scorge la figura di un uomo pallido, macilento, coperto di stracci. Ha visibilmente sfinito, però trova la forza per allungare un braccio e fare una carezza al piccolo cane che gli ha posto il pane sul grembo. Quell'uomo, prosegue la contessa, era sarrocco. Prodigandosi per curare il suo prossimo, aveva contratto la peste e dopo averlo conosciuto, Gottardo abbandonò tutto per seguire la sua vocazione. In seguito Gottardo è stato innalzato alla gloria degli altari e il suo storico incontro con San Rocco fa parte del tempo dell'iconografia religiosa. A Roma, in una cappella di Sant'Andrea della Valle, c'è una bellissima fresco che rappresenta i due santi. Fino a questo momento il conte Lorenzo ha lasciato parlare sua moglie, senza interromperla, ma ora interviene con una delle battute ironiche con cui gli piace sdramatizzare i discorsi. Ha sentito? Commenta. Nell'albero genealogico dei pallastrelli, oltre al grande navigatore che ci ha regalato l'America, c'è anche un santo. E tu? Ride lei. Hai un beato. Antonio Grassi, Fonseca, era antenato per parte di madre dell'ingegnere nato a Fermo nel 1593. Prese giovanissimo i voti, entrando nell'ordine dei frati filippini della sua città, aveva un indole mite e grandi virtù, tanto che presto, contro la sua volontà, fu nominato rettore, ma aveva anche una brutta abitudine. Ogni volta che si affacciava alla finestra della sua cella e vedeva passare qualcuno per strada, lo invitava a salire. Non appena l'aveva di fronte, beh, che non l'avesse mai conosciuto, prima di allora elencava per filo e per segno tutti i peccati che il poveretto aveva commesso, come se li leggesse su una lavagna. Insomma, era dotato di quelle antenne che gli americani chiamano, espe, facoltà extrasensoriali, come tanti sensitivi e tanti artisti, tanti gur e tanti santi in ogni epoca, in ogni parte del mondo. Il conte Lorenzo possiede un antico volume in cui sono raccolte le testimonianze per la causa di beatificazione di Antonio Grassi Fonseca, e nel capitolo intitolato Relazione di una più grazie ricevute dalla Beatissima Vergine di Loreto, c'è una cronaca scritta dallo stesso Beato nel vivace linguaggio dell'epoca. Nell'anno 1621 racconta il frate, essendo io di anni ventinove e dieci mesi andai a Loreto, e il dì 4 settembre davanti alla statua della Vergine ebbi uno sbattimento di persona trovandomi fuori di me e parendomi l'anima separata dal corpo. Poi sentì un grandissimo strepitio di tuono, e mi trovai sbalzato sugli scalini con il capo sul primo e i piedi sull'ultimo. Le mie interiore bollivano come una padella, temevo che la fiamma della viscere sarebbero arrivate fino al cuore e avrei ispirato l'anima. A questo punto qualcuno lo soccorre e viene trasportato su una sedia alla locanda, dove alloggiava. Mi diedero l'estrema unzione, continuo il Beato, dopodiché su mitigò il bollore delle viscere che mi forzava a aspirar fumo, tanto ardente che entrando nella bocca di un giovane che si era avvicinato, gli bruciò totalmente le fauci che ebbe bisogno di un giulebbe e un rinfrescata. Poi mi offrirono pan crepato e la notte riposai quieto. Il giorno seguente ero guarito, tornai a fermo nel mio convento e feci vedere i miei confratelli le vesti, le calze e la camicia che indossavo quando erano all'Oreto, ed erano talmente affumicate e bruciacchiate che furono mandate all'Oreto in segno di grazia ricevuta. E la prova del pericolo a cui ero scampato ancora, lì nella cappella dove avevo pregato, nei segni neri che sono rimasti sui muri. La abbiatissima Vergine conclude, non solo mi ha confermato la vita, ma ha reso la mia sanità molto migliore. Aveva ragione, morì cinquant'anni più tardi, nel 1671, e le sue condizioni di salute furono fino all'ultimo così invidiabili che gli consentivano di recarsi a piedi per due o tre volte alla settimana da fermo all'Oreto. Il beato Antonio è la mia guida spirituale da sempre, dice ora il conte Lorenzo. Comunica con me dal 1920 e spesso manifesta la sua presenza con un intenso profumo di fiori che avvertono tutti, però non ha voluto esaudire un mio desiderio e salire di grado, pensando che avrebbe gradito diventare santo come Gottardo Pallastrelli. Un giorno gli ho detto, sono disposto a iniziare le pratiche per la tua santificazione, anche se sono lunghe e costose, ma lui mi ha risposto, Lorenzo, la santità appartiene alla sfera terrestre, non alla nostra dimensione, risparmi al denaro. Anita Pensotti Fine della quarta puntata Le straordinarie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti